L'idea di dover tornare alle restrizioni per proteggere quella fascia di popolazione che oggi invece ha deciso di prendere un'altra strada che è quella di non vaccinarsi, io credo non sia corretto andare a penalizzare la stragrande maggioranza della nostra cittadinanza. Detto questo però la palla ovviamente passa ai presidenti di regione che hanno la possibilità e hanno il quadro completo dell'andamento a livello regionale e noi come comuni ci adatteremo a quelle che saranno le scelte che la regione insieme al governo decideranno di prendere. Io chiedo semplicemente però che per una volta si tenga in considerazione che l'86% dei nostri cittadini hanno deciso di fidarsi delle istituzioni e della scienza e quindi è giusto che in questa fase venga tutelata la loro libertà di azione. Dobbiamo concentrarci su quella fetta di popolazione che farebbe davvero fatica ad accettare ulteriori restrizioni.